In prima media, la prima gita, i primi d'ottobre, mi vergognavo di andare al bagno con gli altri ragazzi in camera. Resistetti un giorno, due giorni, tre giorni, al quarto giorno, a un certo punto, stavamo tutti a mensa, io salì in camera di corsa, entro nel bagno, è là. Tirai la catena, sto stronzo non scendeva. Alla lì, impazzisco, lo butto di sotto, apro la finestra, prendo lo stronzo in mano, mi affaccio, e lì la mente razionale, no? Attenzione, la professoressa ogni tanto fuma in giardino, la potrei prendere in testa. Mi giro, l'orologio che passava, busta, lo metto in una busta e me lo metto in valigia. Mio padre, Sergio Castellitto è mio padre, aprì sta valigia e disse, ci hai riportato uno stronzo. Sì, ci hai riportato uno stronzo. Sì, ci hai riportato uno stronzo.